Non ci sta il Movimento Regione Salento ad essere associato alla cultura leghista. L'accusa lanciata sulla stampa dal presidente Nichi Vendola merita la replica dei promotori della nuova regione formata dall'Unione delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Vendola, bocciando questo progetto, dice che il Salento non deve rinchiudersi in una piccola patria leghista e che deve continuare ad essere parte integrante della Puglia. Prevedibile, secondo molti, questa presa di posizione del politico di Terlizzi, che però non risparmia dichiarazioni esaltanti delle qualità del nostro territorio. Dichiarazioni apprezzate dal Movimento Regione Salento, che però respinge con forza al mittente gli accostamenti agli uomini di Bossi. Abbiamo sposato, dicono dal Movimento, un approccio pacato e razionale. Non ci appartiene nemmeno dal punto di vista del linguaggio, nessunismo. Siamo orgogliosamente italiani e difendiamo l'unità nazionale. Nessuno vuole, insomma, nessuna secessione, come puntualizza Fabio Valenti. È veramente superficiale la valutazione che ha operato il Presidente Vendola. Noi siamo assolutamente per l'unità nazionale. Nell'ambito dell'unità nazionale noi siamo per l'autonomia federale, ma lungi da noi l'idea del separatismo. È una cultura che non ci appartiene. Valenti replica anche a chi sostiene che la Regione Salento vorrebbe dire chiudersi nei nostri confini. No, la Regione Salento non rappresenta un momento di chiusura, ma un momento di grande apertura, non soltanto verso il resto dell'Italia, ma dell'Europa e del mondo intero. Vendola dovrebbe spiegare come se intende risolvere la questione salentina, visto che la stragrande maggioranza delle risorse economiche si concentrano a Bari, attacca Giovanni Rizzo, coordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento. Vendola, sicuramente anche tirato per la giacchetta dai suoi referenti territoriali del territorio barese, ha tentato di salvare capre e cavoli facendo le giravolte e le circonvoluzioni verbali senza dire nulla sui fatti, cioè le risorse, perché ne arrivano così poche, cosa intende fare se intenderà maffaire alla Regione Puglia per farne arrivare di più, ma non potrà, perché cambiano i governatori di ogni segno e colore da 30 a 40 anni a questa parte, ma il Salento rimane emarginato. Grazie a tutti.